Eccoci e bentornati sul mio canale! Oggi siamo in compagnia di Compass Point West, titolo che ci porterà, come si può capire già dal titolo, nel lontano Far West, quindi con i pistoleri, e dovremo costruire ovviamente la nostra città e ovviamente vincere le varie battaglie, creare il nostro avamposto nel Far West, proteggerlo, essere ovviamente gli sceriffi della città, aiutare la gente, sconfiggere i ladri di bestiame, dovremmo fare un casino di tutto. Allora, archivio quasi pieno, non capisco perché, ok, forse mi se sta in cicciotta l'iPad, ho scaricato troppi giochi, perché in questo periodo finalmente ho ripreso a giocare come volevo precedentemente, ce la dovremmo, penso, fare a scaricarlo, perché ancora avevo un giga scarso. Ok, così lo vediamo insieme. Un altro gioco che mi avete consigliato, jihah, eccoci nel Far West finalmente, mappa è bella grafica. Occhi aperti là fuori, il Far West è un posto pericoloso per la gente di città. Non vedo l'ora di trovare dell'oro, o un vero saluna almeno, magari ce n'è uno più avanti. Allora, eccola, molla la fattoria dolcezza, questa la terra appartiene a Mr. Griller adesso. Sparite fuori legge dei miei stivali, io non mi schiodo, ditelo a quel farabundo. Allora, ehi, sì, asolo, schiacciam, sì, schiacciamo, scacciamo questi fuori legge, introduci, ditelo, ma non mi tocca per inviare l'aiutante. Vai, 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 ben quattro. Ok, e adesso andiamo con i quattro pistoleri contro i tre fuori legge, damoglielo un'azzommata, e qui ce li gustiamo per bene. Quello! Mamma mia, ci provano, ah? Ok, sconfitti. Ah, ah, così imparano, vi sono riconoscente, ragazzi, ma poi che gnocca, come sempre. Piacere mio, dovrei prima costruirne uno, temo, non c'è un saloon in raggio di 300 miglia. Ma, la gente di viaggi ci aveva promesso ben altro. Come ti chiami, socio? Allora, vediamo un po' se riusciamo a mettere tutto il nostro nick, no, solamente 12. Amante tecnologie, fonda nuova città, visita l'incredibile saloon, direttamente sul giornale. Questo gioco utilizza acquisti in app che richiedono soldi veri, poi disabilitate questa funzione dalle impostazioni del tuo dispositivo. Ottimo lavoro socio, bene, ora prendiamoci dell'oro per il saloon. Andiamo qua, capanna del prospettore, allora, mettiamola qua vicino, posizioniamola, ok. Quella oro, lo sapevo che ci sarebbe stato oro appalate. Eccolo qua, e quindi questo ci dà dell'oro, molto bene. Poi, saloon, nel saloon puoi arruolare, sì, arruolare, arruolare, stasera proprio so dislessico, eh. Nuovi aiutanti, ma questo si può tipo girare? No. Posizioniamolo qui. Ok, fantastico, il nuovo saloon attirerà in gente la città più disparata. Bene, ora restauriamo il vecchio tribunale così potremo aprire altri edifici. Andiamo, aumentiamo di livello, migliora. Ok, ottime notizie, al saloon ne sono arrivati i primi visitatori, andiamo a dar loro il benvenuto. Vediamo un po'. Oh, di base pacchetto, apri il mazzo, che cosa c'è? Vediamo un po', dammi qualcosa di figo. Normale, Jason Kaman, good gun, ok. Non mi sembra male, apriamo quest'altro. Oh, il pistolero, bene, oro e oro. Perfetto, molto bene. Andiamo a vedere qui sulla mappa. E mi sembra che siamo messi bene. Ottima scelta, usiamo quel falegname per rimettere in piedi il tribunale. Allora, andiamo a menare. Jacob Amman, attiva. E dacci, tribunale migliorato. Ora possiamo costruire ben tre cose. Il vice fa la guardia alla città con colpi rapidi e accurati. Ah, rieccoci, rieccoci qua, mister Driller. Quei paesani non vogliono sloggiare. E ora portano pure uno grosso, eh. E così la città sta fiorendo male. Le vostre infernali fattorie intralciano i miei buzzi di petrolio. Oh, stanno attaccando saluto, pregato. Pover Driller, quel farappunto presto procuraci un vice per difendere la città. Allora, andiamo qua. Prendiamo il vice. Posizioniamo qua il vice. Abbiamo un porto di spazio. Eccolo qua il vice. Perfetto, sono in troppi. Chiamiamo il pistolero, ci serve una mano. Accampamento. Pettiamolo qua, l'accampamento. No, così. Perfetto. Ok. Ormai ci stanno a far costruire gran parte delle cose. Ecco qui, tutti i nostri amici pistoleri. Su, tutto questo grosso che è troppo grosso. Figgiamolo giù qui. Guarda quant'energia c'ha. Dai, dai, dai ragazzi. Su, vice, vice. Ok. Ok, sconfitti a posto. Sudata. Fessi, non mi fermerete mai. Io so nel futuro. Non vi darò tregua. E che cacchio. Ah ah, così impara. Bene bene, abbiamo trovato un degno nemico. La tua città sta venendo su che è uno splendore. Continua a migliorare il tribunale. Serviranno molte più risorse. Esploriamo la frontiera e iniziamo a riprenderci un po' di quell'oro da overdriller. Andiamo un po' all'attacco. Allora, una delle fattorie è stata presa dalle capite di driller. Tocca per levare, per attaccarli. Adorm, farm. Andiamo. Vedi, possiamo pure andare ad attaccare le fattorie vicine. Mi piace, mi piace. Mi sta piacendo questo lontano far west. Tocca la zona d'ingresso per mobilitare i tuoi pistoleri. Ok. Il prossimo attacco tra due, uno, vai. Andiamo. Solo questi ci abbiamo? Sì, ma penso che devono passare solamente due. Ce ne stanno per riprendere la fattoria. Quindi questo lo sconfiggiamo facilmente. Ok. Andiamoci a riprendere ciò che è nostro e ciò che soprattutto ci hanno rubato. Non ci ha rubato un overdriller. Quindi questo lo mandiamo subito a fuoco e ci riprendiamo questo accampamento. Vittoria! Yeah! È andata. Meno 20 all'estrazione, nessun ferito. Compass point west. Vediamo un po' se ci fa fare subito l'altra fattoria. Allora. Mr. Driller verrà a cercarti. Sì, dice, verrà a cercare. Così imparano. Liberiamo la frontiera da quel tiranno. Manda un fantino del pony express a controllare dove Mr. Driller sta causando altri danni. Prendi i soldini e esplora. Ah, vedi, così. Ah, espandiamo la mappa. Costruisci un pony express nella tua città per esplorare altre zone della frontiera. Andiamo ad attaccare anche Riverside, che mi sembra abbastanza veloce, livello 1. Noi siamo già a livello 3, quindi potremo anche andare ad attaccare quella che abbiamo appena esplorato con... con... come si dice... con... con il pony express. Allora, andiamo sempre ad attaccare Riverside. Ce ne abbiamo due, quindi è 4 contro 2. Lo sconfiggiamo facilmente e poi ce n'è uno da solo. Quindi questi li uccidiamo senza l'unico corso. Sconfitto questo. Andiamo qua dal compare che è rimasto da solo. E ci riprendiamo anche Riverside. Così altra fattoria presa e altra vittoria. e altri materiali per noi, eh. Questo Far West mi sta veramente piacendo. A posto. Sconfitta. Altra vittoria per noi. Quanto prendiamo? 900 di oro, 270 di legna e una stellina. Perfetto. Finita anche questa. Molto, molto, molto bene. Ci resta quest'altra qui sopra da sconfiggere. Eccoli qua i 900. Eccolo altro legna. Ok, ritorniamo al nostro accampamento. Mappa. Eccoci qua. Perfetto. Qui ha finito del legno. Qui ha finito dell'oro. A posto così. Ragazzi, io direi di terminare qua. Ditemi che cosa ne pensate di questo gioco. Secondo me promette veramente molto bene. Per farci soprattutto una serie di nuove partite. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale. Mettete un bel mi piace sul mio video. E ci vediamo con tanti nuovi video. Sempre qui, sempre sul mio canale.